Arriva un nuovo ecografo nella sede della sezione provinciale della Lilt, Lega Italiana per la lotta contro i tumori di Caltanissetta. Si tratta di un dispositivo che si aggiunge alla dotazione tecnologica della sezione Nissena, che attualmente possiede altri due ecografi. Il neo è arrivato però, a differenza degli altri portatile, e quindi agevolerà la realizzazione delle campagne di prevenzione, con la possibilità di effettuare visite anche al di fuori della sede centrale e quindi nei comuni che aderiscono all'iniziativa. L'ecografo inoltre permette di effettuare diverse tipologie di diagnosi per la prevenzione oncologica-ginecologica, tumore della mammella e della tiroide, tumori addominali ed è dotato anche di una sonda per gli esami ecocardiografici. Questo è il terzo ecografo che compriamo. È un ecografo, un top di gamma tra gli ecografi portatili perché lo abbiamo destinato soprattutto per le campagne di prevenzione che vogliamo estendere su tutto il territorio della provincia. È un ecografo, dicevo, di un top di gamma con quattro sonte che ci permettono di esplorare i vari distretti del corpo umano, ma soprattutto della mammella, perché la grande richiesta è quella di fare prevenzione oncologica per il big killer delle donne, il cancro della mammella. Questo è quello che abbiamo già intrapreso, è già da un paio d'anni che ci richiamo presso i comuni che ci mettono a disposizione dei locali che siano idonei per fare la prevenzione e quindi stabiliamo degli interventi programmati e questo si incrementa sempre di più e le richieste aumentano. Ho un incontro per portare la prevenzione nella provincia nord e speriamo che tutto vado bene in modo da poter coprire tutto il territorio provinciale. D'altronde in questi momenti di pandemia la prevenzione ha avuto un arresto e quindi il contributo di un'associazione come la LILTE che su tutto il territorio nazionale si impegna per supportare quello che è già l'impegno dell'istituzione.